Ciao a tutti, oggi è il 25 aprile, ma perché si festeggia e soprattutto a che cosa? Io in questo video spiegherò molto brevemente i fatti storici che hanno portato al 25 aprile del 1945 e per farlo leggerò alcuni brani di questo libro scritto dallo storico inglese Dennis MacSmith, si chiama Storia d'Italia Una breve parentesi però sul quadro storico agli inizi del Novecento, perché senza capire questo non si può capire come si è arrivati al 1945 Nel 1918 finisce la prima guerra mondiale, ma un anno prima in Russia avviene la rivoluzione e si rovescia il capitalismo L'Italia, anche se esce vittoriosa dalla prima guerra mondiale, è in una situazione di grande difficoltà, sia politica che sociale che economica La classe contadina e operaia rivendicava migliori condizioni lavorative e sociali I certi medi invece dopo la prima guerra mondiale avevano aumentato uno spirito patriotico, ma vedevano il declassamento della loro condizione sociale ed economica Poi c'era la grande borghesia italiana che invece durante la guerra, attraverso le commesse pubbliche belliche, aveva fatto grandi affari In questo quadro in Italia agli inizi del Novecento crescono sia i movimenti sindacali che il partito socialista, insieme a scioperi e proteste E che cosa succede in buona sostanza? Che una parte della società, pensando che l'Italia fosse sull'orlo della rivoluzione come in Russia, pensa a mettere in pratica una controrivoluzione Ed è in questo contesto storico che matura il fascismo, che diventa funzionale a certe finalità In alcune zone i proprietari terrieri erano la mercè delle leghe rosse E per fermare tutto questo vennero arruolati e reclutati disoccupati e militari per creare delle bande che diventarono il nucleo delle squadre fasciste Ed è a questo periodo che risale il connubio di Mussolini con gli agrari della pianura padana Sotto la pretesa di salvare il paese dal bolshevismo, i fascisti riuscirono a minare l'autorità del governo E a promuovere condizioni d'anarchia tali da far desiderare alla gente un regime autoritario Fu appunto fra la Romagna e la Toscana che nacque la pratica dello squadrismo per difendere le leghe agrarie contro le cooperative socialiste Una pratica che si diffuse poi rapidamente una volta che i suoi promotori scoprirono che le scorribande rimanevano impunite grazie alle coperture politiche I proprietari terrieri volevano vedere soffocati gli scioperi e vedere i loro braccianti ridotti ad una rigorosa disciplina I commercianti non gradivano la concorrenza delle cooperative socialiste Gli industriali volevano un governo forte che facesse una nuova legge in materia di scioperi Che mantenesse bassi i salari e che aumentasse le tariffe protettive in modo da difenderli dalla recessione del dopoguerra Le bande fasciste per reprimere nella violenza i movimenti di protesta e di sciopero in tutta Italia Ricevevano sovvenzioni e appoggi da gruppi di potere, grandi imprese, proprietari terrieri Spalleggiando il fascismo i banchieri acquistarono un diretto interesse finanziario al suo successo In questo video ho cercato di spiegare molto brevemente il periodo storico in cui ha origine il fascismo Che poi diventa una dittatura che dura vent'anni, che arriva a dare pieni poteri al capo del governo, cioè a Mussolini Ad abolire le elezioni, a limitare le libertà fondamentali di associazione, espressione politica e di stampa A proibire il diritto di sciopero, a eliminare i sindacati non fascisti A sciogliere tutti i partiti con l'eccezione di quello fascista Poi arrivano le leggi razziali, l'alleanza col nazismo, la guerra Fino al 1945 con la liberazione Grazie per aver visto questo video, spero che sia stato utile a capire meglio il giorno di cui si sta parlando E buona festa della liberazione